Per cercare di togliere il vuoco un prato dalle strade, la Lega Nord che proposta di legge ha presentato? Abbiamo presentato una proposta di legge di cui io sono il primo firmatario che prevede l'aumento dal punto di vista sanzionatorio e penale dei reati di contraffazione per cui una lotta dura ai venditori abusivi e da quei parcheggiatori abusivi che costringono le persone che vogliono parcheggiare in città a comprare merce contraffatta per cui un aumento delle sanzioni ma anche una possibilità per le amministrazioni comunali per far vedere quanto le loro polizie locali lavorano e quanto siano sensibili al tema se un'amministrazione comunale vorrà togliere venditori abusivi e parcheggiatori abusivi dalla propria città o dal proprio comune lo potrà tranquillamente fare sanzionando e requisendo la merce ma soprattutto grazie alla pubblicazione della sentenza daranno valore aggiunto alla loro attività e finalmente riusciremo a vedere quelle amministrazioni comunali che lottano contro la contraffazione e quelle che invece fanno finta di niente.